14.27 in diretta ancora con il nostro telegiornale. Nei giorni scorsi tra la Conf Cooperative e le organizzazioni sindacali CGL e Cisle Will è stato sottoscritto un importante accordo quadro territoriale che consente la detassazione delle retribuzioni premiali corrisposte nell'anno in corso ai lavoratori delle imprese cooperative. Più in generale la Conf Cooperative di Taranto esprime soddisfazione per il soddisfacente andamento del comparto cooperativo che pur in un perdurante periodo di crisi economica riesce molte volte a corrispondere ai lavoratori oltre agli stipendi addirittura delle retribuzioni premiari connesse a incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento delle imprese. Lo dichiara il presidente di Conf Cooperative Carlo Martello. A sede nella piazzale Bestat 30 la nuova associazione on-lus dal titolo OLIS che è stata presentata oggi al territorio, un nuovo mondo a Taranto che senza distinzione di genere si occuperà di sociale e di benessere. Si chiama OLIS, la nuova associazione ionica on-lus presentata oggi al territorio presso la sede di piazzale Bestat. OLIS come olistico, come il tutto, come persona nella sua interezza, l'essere umano visto, trattato e considerato come unione inscindibile tra psiche, corpo e anima. Un nuovo mondo a Taranto che senza distinzioni di genere si occupa di sociale e benessere. Un team composto da esperti con specializzazioni, personalità e attitudini diverse che si prenderanno cura di chiunque abbia bisogno dall'infanzia alla terza età, dall'aiuto a chi sente di non aver via d'uscita, alle attività culturali e al benessere psicofisico, dunque uno sportello d'ascolto. Dottoressa Sgobbio, quali le attività di questa nuova linfa per la città ma anche per tutti coloro che ne hanno bisogno? OLIS intende proprio gestire un discorso che fino adesso è stato un po' dimenticato, nel senso che nuove violenze, stalking, mobbing, pedofilia, usura e racket, violenza sulle donne ma anche violenza di genere perché c'è un nuovo tipo di violenza che si rivolge esclusivamente al genere maschile. tutto quello che rientra nel legale, nella sicurezza, proprio nella gestione di una vita più tranquilla e con valori diversi. OLIS è un centro che si occupa di dare una mano, un'accortezza, un aiuto a chi subisce, quindi un'isola infelice diciamo ma che si cerca di trasformare in isola felice. Quali gli orari di apertura dello sportello? Noi abbiamo uno sportello che funzionerà e che sta già funzionando 24 ore al giorno, offriamo consulenza psicologica, medico, legale, sociologica e anche aiuto economico laddove è necessario. I carabinieri del nucleo radiomobile di Manduri hanno arrestato in flagranza di reato per evasione dagli arresti domiciliari Antonio Mezzolla, 59 Nei di Sava. I militari del nucleo radiomobile lo hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse detenuto agli arresti domiciliari. Festa di primavera per le famiglie, questo è il nome dell'iniziativa organizzata ieri sera da Gianni Liviano dell'Associazione La Città. Che vogliamo? Rispondere ai bisogni di solitudine delle famiglie del territorio, costruire una relazione tra i cittadini e la città è l'obiettivo dell'Associazione La Città che Vogliamo, presieduta da Gianni Liviano, che ieri sera ha dato vita ad una serie di iniziative svoltesi in piazza Catanzaro, una serata all'insegna della cultura, della solidarietà, della danza, del cibo e della musica locale. Abbiamo organizzato questa iniziativa stasera qui in piazza Catanzaro con l'obiettivo di costruire relazioni tra le persone, tra le famiglie. L'obiettivo è quello di costruire ponti tra le persone del quartiere, della città, favorire il fatto che la gente possa incontrarsi, confrontarsi, stare insieme, rispondere ai bisogni di solitudine che sicuramente sono sempre più forti tra le nostre famiglie. L'idea, lo scopo è fare in maniera che gli spazi siano spazi abitati, spazi dove è possibile socializzare, dove è possibile relazionarsi e non solamente luoghi di passaggio per recarsi da un luogo all'altro, spesso in maniera rapida e veloce. L'iniziativa è fatta da una serie di momenti. Abbiamo inaugurato la biblioteca, stiamo vedendo gli stand delle associazioni di volontariato, tra un po' ci darà l'esibizione della scuola di ballo e poi ancora mangeremo insieme, e poi un gruppo, un'associazione di giocoliere, di trapezisti, animatori di strada, e poi la Pizzi, e poi ancora il pace fatta. Insomma, una serie di iniziative finalizzate a rispondere agli interessi e bisogni di tutti i target, di tutti i componenti della famiglia, ripeto con l'obiettivo di fare in maniera che i nostri quartieri, le nostre strade, le nostre città siano comunità di persone e non solamente agglomerati di palazzi. Riflettere sui valori etici dello sport e sull'importanza delle strutture pubbliche sportive a Taranto. L'obiettivo del comitato Taranto-Redenta, che porterà domenica prossima sul territorio il campione olimpico pugliese Pietro Mennea. Il campione olimpico e primatista mondiale Pietro Mennea sarà a Taranto domenica prossima per visitare il campo scuola, ma altri eventi coinvolgeranno il campione pugliese, al fine di aiutare i cittadini a riflettere sui valori culturali, sportivi, indispensabili per la comunità. Ne sono convinti i componenti del comitato cittadino Taranto-Redenta, unitamente diverse associazioni sportive del territorio, che ieri sera nel corso di una conferenza stampa hanno evidenziato la necessità di impianti pubblici sportivi in città. L'iniziativa di stasera, ma l'iniziativa che poi seguirà domenica 22, è nata da un certo numero di associazioni che si reputano quasi come il sindacato sportivo della città. Cioè noi siamo associazioni che vivono lo sport in prima persona e non istituzionalizzati. Ci siamo chiesti cosa possiamo fare per la città e non semplicemente rimanere così a criticare che qualcosa non va. Abbiamo preso spunto dal primo impianto, l'unico impianto pubblico sportivo della città che è il campo scuola. È uno stato di abbandono a se stesso, sembra che ci sono stati bombardamenti della Libia, sono stati anche lì. Però questo non vuol dire che bisogna continuare così. Allora ci siamo uniti e abbiamo visto che non è sicuramente un problema di fondi perché così come gli ultimi paesi e cittadine più poveri dell'Italia hanno un impianto sportivo pubblico, così lo può avere anche Taranto. Soprattutto abbiamo analizzato che è una fonte di ricchezza perché con un evento sportivo possono arrivare a Taranto anche 10.000 persone e sebbene accolte queste 10.000 persone possono ritornare. Ma soprattutto su questa linea Pietro Mennea ci verrà a trovare e farà visita al campo scuola perché proprio per aiutarci anche su questo aspetto, anche darci dei suggerimenti condimenti sotto l'aspetto non solo economico ma anche gestionali di questi impianti sportivi e soprattutto lui con la sua fondazione, o meglio noi tutte associazioni sosteniamo la sua fondazione di beneficenze per la ricerca sulle malattie incurabili. Parliamo di cultura, l'associazione Amici del Quinto Ennio nell'ambito degli incontri con l'autore ha analizzato la poetica di Esther Cecere, autrice della raccolta di liriche burrasche e brezza. Un noto poeta inglese definiva la poesia come poetry is emotion recollected in tranquillity, la poesia è un'emozione che si ricolleghi in un momento di tranquillità e in questo modo lei dà sfogo ai suoi sentimenti con uno sfondo meraviglioso, il mare. Sì, in effetti io condivido molto della poetica di Woodsward perché in effetti le emozioni si provano in tanti ambiti, in tanti contesti e lasciano un segno e poi in effetti debbono essere un po' rielaborate prima di diventare vera poesia. Lei scrive di getto? Io scrivo di getto come un appunto e poi però ci ritorno su per dare un po' al componimento quella musicalità che necessariamente lo deve distinguere dalla prosa perché appunto parliamo di poesia. Però sì, gli appunti vengono presi di getto. Professor De Stefano, facciamo un'analisi critica da Crino, giudicare in greco, sulla poetica di Esther Cecere. Per fare un'analisi critica mi ci vorrebbe un'ora e quindi dovreste aspettare la mia lezione. Per quello che riguarda insunto devo subito dire che un'analisi critica nel senso proprio esegetico della parola si può fare però bisogna togliere al concetto che per tutto il libro della metafora, il mare eccetera, bisogna togliere quello che una volta si chiamava la substanzia reum. Il fatto che abbia dedicato al suo libro Burrasca, mare, brezza eccetera è un fatto fondamentalmente direi metaforico, direi ancora più preciso, ipostatico, sono momenti che lei paragona alla dolcezza del mare, alla tranquillità del mare o alla burrasca del mare. Invece tutta l'opera che verde per molti anni dove non c'è la data delle poesie, quindi è un caledoscopio di sentimenti direi di dialettica e dove il bene è col male, dove è al posto di quello che noi possiamo chiamare una dialettica vera e propria, cioè un concetto esistenziale della vita. Questo concetto esistenziale o esistenzialistico della vita non è né moderno, né antico, né decadente, né crepuscolare, è soltanto legato al sentimento virtuale e virtuoso della poetessa. E si concludono le iniziative dell'Associazione Amici del Quinto Ennio. Un breve bilancio. Sì, non possiamo che essere estremamente soddisfatti perché appena nati nel dicembre scorso abbiamo portato avanti delle iniziative valorizzando soprattutto le esperienze e le sensibilità del territorio e si conclude al meglio con la presentazione di questo bel testo di una tarantina che è vissuta a Taranto, che lavora per Taranto nell'Istituto Talassografico. Autrice di bellissime poesie che parlano del mare. Nulla di più bello perché l'elemento identitario di Taranto è proprio il mare. Notte dei musei, dunque apertura straordinaria del Martà. Il Museo archeologico di Taranto oggi sarà aperto con orario continuato fino alle 2. A partire dalle 20 dunque le collezioni archeologiche del Martà saranno fruibili con ingresso gratuito. Già alle 19 si terrà una conferenza con la dottoressa Maria Antonia Gorgoglione della soprintendenza per i beni archeologici della Puglia sul contesto pittorico della Grotta dei Cervi di Porto Badisco e le comunità che la frequentarono. Poi alle 20, 21 e 30, 22 e 30 e 23 e 30 verranno effettuate visite guidate gratuite alle collezioni permanenti del Martà a cura del personale tecnico scientifico della soprintendenza. alle 21, 22 e 23 momenti musicali grazie all'azienda di promozione turistica. Dunque il Martà questa notte è aperto fino alle 2 con ingresso gratuito. Con questa notizia ci lasciamo, sono le 14 e 39 e la linea torna alla nostra regia curata da Luca De Vito e Cristian Palazzo, poi lo sport. Arrivederci. Grazie a tutti.